Unico obiettivo, i tre punti per lo Sportland Celano dopo il pareggio sfortunato sul campo del Popoli per tante ragioni non ultime quelle sanitarie con due infortuni seri per la rosa di mister Ulderico Cerasoli davanti al club Castellano. Questa volta c'è un Alanno che viene dal clamoroso 7-0 rifilato al Preturo. Pronti via Sportland ad un passo dal vantaggio con l'incornata di Matteo Taccone, la sfera sbatte sulla traversa e termina alta poi rispetto alla porta dell'Alanno, Alanno che prova a farsi vedere dalle parti del portiere Loto qui un po' impreciso su un calcio piazzato. È buona però la copertura di Evangelissa sulla ribattuta da parte degli attaccanti dell'Alanno. Lo Sportland non molla, continua a farsi vedere davanti, qui Innocenzi col Mancino vede la sfera sbattere sul palo poi ancora con il destro e ancora di nuovo con il sinistro, sempre Innocenzi. Dall'altro versante c'è la conclusione con il destro di Baruffa e il volo di Dorazio a salvare l'Alanno Alanno che poi impegnerà seriamente Loto che qui va a deviare prima di farsi aiutare dal palo ancora Loto stavolta a bloccare con facilità su una conclusione tutto sommato morbida e dall'altra parte ancora una conclusione col destro di Baruffa. Spara centralmente Dorazio, l'Alanno prova a farsi vedere con un piazzato dalle parti di Loto questa volta è di Giuseppe a lasciare che la sfera venga bloccata dal portiere dello Sportland Sportland che tenta ancora dalla distanza, primo tempo ricchissimo di occasioni poi destro fortissimo di Santilli che va a sbattere sul palo prima di uscire altra occasione colossale per l'Alanno sugli sviluppi di un piazzato battuto da Di Pietrantonio lo Sportland dall'altro lato va a centimetri da quello che sarebbe il gol del vantaggio pallone messo in mezzo in modo perfetto da parte di Innocenzi Dorazio, riflessi prontissimi ad evitare quello che come detto sarebbe stato l'1-0 nel primo tempo non succede più nulla siamo già nella ripresa con lo Sportland che va ancora vicino al possibile 1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo rimessa laterale poi pericolosa con la deviazione di testa da parte di Carminelli ma la sfera termina soltanto sulla traversa dall'altro lato Sportland che prova a farsi vedere con un bel colpo di testa poco dopo c'è un pallone lavorato al limite dell'area di rigore conclusione con il destro e parata da parte di Dorazio è la fiera delle occasioni lob morbido poco dopo per l'Alanno con la sfera che va a sbattere sul palo con l'oto battuto dall'altro lato ancora Sportland non c'è tempo nemmeno per respirare conclusione di potenza col mancino da parte di Marianetti niente di fatto come niente di fatto sarà la conclusione sempre col sinistro poco dopo di Baruffa il gol del vantaggio però nell'area il Celano lo trova con un destro al volo sugli sviluppi di un pallone lungo a campanile proprio di Marianetti che riesce a battere il portiere Dorazio poco dopo il raddoppio è servito ancora con Marianetti che si invola in un'azione sostanzialmente fotocopia di quella dell'1-0 sono queste le due chance che vanno sostanzialmente a chiudere la gara ci sarebbe l'opportunità di fare addirittura il 3-0 con la conclusione di Mezzetti c'è però l'intervento di Dorazio, altro pallone in mezzo non c'è tempo nemmeno per respirare un tentativo in rovesciata con il volo di Dorazio alla fine non succede più nulla lo sport lancelano porta a casa tre punti di Platino contro l'Alanno è 2-0 il finale, la rincorsa verso un posto nei play-off per la truppa di mister Cerasoli può tranquillamente continuare si dispiace aver perso così perché è stata una partita equilibrata soprattutto nel finale abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla poi un errore della nostra difesa ci ha condannato però faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita siamo venuti qua sapendo delle difficoltà perché lo sport lancelano è un'ottima squadra c'è solo rammarico la prestazione c'è stata pensiamo alla prossima partita adesso noi siamo partiti anche in ritardo quest'estate stiamo rispettando la classifica che la società mi aveva chiesto anzi stiamo facendo qualcosa di importante perché all'inizio dobbiamo ricordare che noi siamo una squadra che è stata ripescata perché l'anno scorso nel girone C è retrocesso quindi siamo partiti con qualche difficoltà poi abbiamo fatto una buona squadra soprattutto con diversi ragazzi anche oggi abbiamo giocato con 6-7 fuori quota infatti quando faccio la formazione non guardo nemmeno i fuori quota perché ne abbiamo tantissimi abbiamo anche un margine di miglioramento stiamo rispettando i pronostici anzi stiamo facendo di più però io chiedo a questa squadra perché secondo me abbiamo le qualità per fare ancora meglio Buonasera la partita è stata veramente bella oggi finalmente ho rivisto una squadra veramente giocare a calcio noi ci proviamo poi non è detto che sempre ci si possa riuscire oggi abbiamo fatto bene abbiamo creato tantissimo palo e traversa già nel primo tempo purtroppo è dura ma ci riesce sempre un po' difficile però ci prendiamo questa bellissima vittoria la dedichiamo a due ragazzi che domenica scorsa purtroppo hanno subito due infortuni gravi li abbiamo persi per tutta la stagione sono Simone Taccone e Lorenzo Villa gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo e questa vittoria la dedichiamo a loro questa è una bella vittoria veramente una bella vittoria perché l'anno è una squadra forte costruita sicuramente per fare bene a giocatori importanti quindi ci prendiamo questa bellissima soddisfazione e continuiamo a lavorare sempre partita per partita senza porci un obiettivo preciso però se continuiamo così a giocare così a lavorare così possiamo toglierci belle soddisfazioni guardi i risultati non li ho visti benissimo perché comunque non sono mai finali però ci sono dei risultati abbastanza strani questo è quello che comunque ci fa capire che questo campionato è difficile è complicato ci sono tante squadre comunque di valore anche ieri torno in parte ha vinto a Villa Sant'Angelo 1 a 0 oggi la sconfitta di Ortucchio se è quello il risultato in casa con Canistro una sconfitta pesante sinceramente non ce le aspettiamo certi risultati anche il nostro sono obiettivo anche il nostro di domenica scorsa a Popoli è una partita che comunque noi pensavamo di fare molto meglio purtroppo la prestazione non è stata positiva poi un po' gli infortuni che ci sono stati a partita in corso un po' ci hanno condizionato proprio a livello anche mentale e quindi torno in parte credo sia la squadra nettamente più forte probabilmente alla lunga si staccherà anche un po' di più anche se domenica prossima c'è uno scontro diretto proprio con Cerratina vedremo quale sarà il risultato però Cerratina è un'ottima squadra Valle Peligna dove noi andremo domenica prossima è un'altra buona squadra quindi è tutto è bello è bello perché comunque te lo puoi giocare con tutti e a sto punto anche dietro stanno facendo punti perché Aielli sta facendo punti di continuo è una squadra che sembrava comunque staccata invece si sta tirando fuori piano piano e fa piacere quindi va bene così noi pensiamo a una partita dopo l'altra noi abbiamo dei valori importanti e possiamo fare bene sono veramente contento di aver fatto questi due gol per la mia squadra ma soprattutto perché domenica scorsa purtroppo abbiamo perso due ragazzi per infortunio e quindi volevo dedicare questa doppietta a Simone Taccone e Lorenzo Villa che purtroppo non saranno dei nostri per fino a fine stagione eccoci qua con il nostro festeggiato Domenico Lucitti com'è andata la vostra partita oggi? ma è stata una bellissima partita per quanto mi riguarda ben studiata in settimana perché noi aspettiamo loro che comunque sono una bellissima squadra e all'andata ci hanno messo in difficoltà abbiamo studiato insomma la partita dell'andata e ripassato gli errori che avevamo fatto soprattutto in fase difensiva e niente bene così sono contento per i ragazzi per noi e avanti così bene rinnoviamo gli auguri al nostro Falco auguri Falco grazie grazie ragazzi grazie 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 a tutti.